ciao ragazzi in questo video cercherò di riparare il mio portatile perché un giorno semplicemente aprendolo ho sentito un clock in pratica la cerniera di sinistra si è staccata dal coperchio di alluminio del display in questo modo in pratica alzando il coperchio la cerniera rimane indietro e quindi spinge di brutto sul display piegandolo addirittura adesso vi farò vedere alcune video e alcune foto di quello che succede quando si apre rischiando di spaccare letteralmente il display quindi adesso dovrò scollare tutto il coperchio in alluminio sperando di non rompere qualcosa e trovare un modo per rincollare la cerniera oppure fissandolo in qualche modo per appunto ripararlo e continuare ad usarlo prima di spaccarlo definitivamente allora adesso l'ho steso completamente questo è un 360 un x360 quindi può ruotare lo schermo anche per dietro l'ho fatto ruotare più del dovuto e poi l'ho appoggiato in modo che qui che c'è il problema riesca a far rimanere il display dritto perché se così non faccio la cerniera spinge troppo in su e me lo alza tutto adesso cerco di scollarlo da qui speriamo bene finalmente sforzando un pochino sono riuscito a staccarlo dal coperchio ci dovrebbe essere un adesivo da togliere probabilmente dipende dalla versione perché ho visto qualche tutorial online però devo dire che si è staccato abbastanza facilmente non so se la colla ormai ha perso la sua forza e quindi per assurdo veniva facilmente comunque manca ancora due terzi di display a staccare adesso avendo lo staccato per quasi metà ho messo due carte di credito tra virgolette quelle plastificate per tenerlo aperto e non farlo richiudere quindi adesso posso continuare con l'ultimo pezzo l'ultima parte essendo ancora tanto incollato a differenza della prima l'ho sganciato come ho fatto nel primo passaggio ma adesso sto ritornando indietro e tenendolo sollevato sto rifacendo tutto il procedimento e pian piano si sente un adesivo che si stacca ovviamente devo avere pazienza e farlo lentamente e ci siamo quasi sono riuscito ad aprirlo piano piano con tanta tanta calma alla fine quella strisciolina nera lì questa qui è adesiva e permette appunto al display di rimanere incollato ma oltre a quello ci sono i gancetti che sono sul lato appunto del display ci sono le fessurine che si agganciano al telaio all'alluminio quindi pian piano avanti rati su e tenendo su tutto il display in modo che pian piano si scolli ce n'è una di qua e una di là questa è la cerniera che mi dava problemi guardate che cosa fa vedete lei rimane ferma mentre il coperchio si alza completamente quindi c'è una colla qui sotto che la lega al coperchio e quella colla non tiene più invece quella di qua non ha nessun tipo di movimento questa invece è completamente staccata quindi quando io vado a abbassare il tappo quando vado ad alzare scusate il coperchio in pratica quella lì rimane ferma e spinge sul display infatti è tutto mollo qui adesso vedo se si è staccato qualcosa e me lo piega rischiamo di spaccarlo perché alla fine quella parte lì è display ho tolto adesso le tre viti e dovrebbe venir via e si separa quindi adesso toglierò anche le altre vediamo ora sono riuscito a separarlo diventando le tre viti di qua e quella dall'altra parte della cerniera e ho spostato un po' il coperchio perché ovviamente c'è ancora qualche cavo che collega il computer al coperchio quindi non posso assolutamente tirarlo fuori comunque mi basta così adesso questa parte qui infatti è staccata questa doveva essere incollata alla cerniera sì al coperchio devo dire però che la colla messa da HP è davvero poca dopo sicuramente sarà un adesivo superforte ma guardate la strisciolina è molto molto sottile comunque al di là di questo ho letto in un sito vi farò vedere che per incollare plastica e allumina ci vanno ci sono diversi tipi di coil tra monocomponente e bicomponente ciano acrilati non sono un esperto quindi devo leggere e informarmi ma attualmente l'unica che ho è un'attacca in pratica una ciana acrilica e dovrebbe comunque andar bene per incollare questo tipo di materiali ci provo se si stacca comprerò la colla apposita dopo averla messa appoggiamo questa va già in sede perché comunque tutto il resto è unito adesso si metterà un pesetto vediamo se tiene bene sono passate un paio d'ore da quando ha incollato la placchetta alla copertura del display con una colla ciana acrilica e vediamo un test resistenza se tiene io provo a lasciarlo così adesso proviamo il test distruttivo esagerando ovviamente sembra tenere adesso provo a avvitarci una vitina sto tirando parecchio ovvio che non posso fare una grande leva però secondo me può stare così quindi adesso lo proverò così e vi farò sapere se questa soluzione molto economica e rapida funziona bene ragazzi vi farò sapere se il discorso funziona se questa riparazione economica senza acquistare colle senza manuale portatile in riparazione e spendere soldi perché non sono pochi quando si portano in centro assistenza insomma se funziona e se è duratura intanto pubblicherò il video se questa non si stacca subito e poi col tempo vi aggiornerò se riesce nel tempo a durare questa cosa però se lo notate anche voi nel vostro portatile dovete stare molto attenti perché questa cerniera spinge davvero tanto se non è fissata bene rischia di spaccare il display che a differenza della cerniera è molto flessibile con la cerniera non è fissuta bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.